ragazzi miei finalmente il primo vero vero bello 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 di quest'anno ho appena entrato nel bosco e devo guardate la quante amanite prima vi faccio vedere queste vedete tutto qua sotto vedete io sono entrato da di là da lontano lo vedo guardate qua che bello che bello che sanezza che sanezza se si trovano questi meno male meno male ricordate avevo già provato due volte ma a buca e oggi appena entrati che bello vai cominciamo bene la mattinata dai speriamo bene guardate qua ok speriamo a dopo guardate che belline che sono quella piccolina la lasciamo giù bello 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 qua ne abbiamo un altro però peccato tutto mangiato tutto pieno d'acqua lo lasciamo qua continuiamo ancora fin ho raccolto questi qua ne abbiamo altri sono davvero belli sono davvero belli ora mi faccio tutta questa costa qui e poi continuo ad andare su vediamo se esce qualcosa ok altre margheritine ma bocciotti niente più niente io ci ho provato ieri ha fatto una grande grande piovuta speriamo che non fermi tutto perché comunque ogni volta che vengo c'è sempre più vita nel bosco quindi è una questione di giorni deve fare ancora un po' di sole che io vedo che comunque dove ci sono i funghi sono sempre nelle zone aperte vicino ai sentieri quindi vuol dire che ancora nel bosco ci vuole ancora sole facciamo passare ancora tutta la prossima prossimo weekend si può tornare e vedere un po' va bene penso che vi saluterò ora nel caso a tra poco ma non penso spero ma non penso ciao 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 ciao